Con la cerimonia di posa della prima pietra hanno ufficialmente preso il via i lavori di adeguamento del palazzetto dello sport Andrea Di Concilio di Agropoli, un intervento importante necessario poiché consentirà di risolvere alcune criticità riscontrate nel corso degli anni e al contempo di ammodernare una struttura che non è soltanto casa dello sport ma anche sede di eventi e manifestazioni. Ormai a 12 anni dall'inaugurazione del palazzetto di concilio era necessario un lavoro di manutenzione straordinaria a cominciare insomma dal parquet che dopo tantissime gare disputate in questo palazzetto e dobbiamo ricordare anche momenti di grande sport sia in termini di eventi particolari sia in termini del basket quando andavamo in Serie A necessitano oggi una rivisitazione completa del parquet ma a cominciare da quello è necessario un intervento di manutenzione straordinaria perché dopo 12 anni una struttura come questa comincia a avere degli effetti negativi a causa del tempo e delle intemperie infatti abbiamo dei problemi sulle facciate di infiltrazione di acque come dal tetto e quando l'incuria comincia ad arrivare bisogna intervenire immediatamente per evitare che questo spread da struttura perdesse di valore oltre che perdesse di funzionalità. Ecco quindi l'idea di una ristrutturazione importante ma a questo abbiamo aggiunto la volontà di renderlo ancora più all'avanguardia con la climatizzazione. Riteniamo che una struttura di questo tipo possa operare effettivamente tutto l'anno e durante il periodo estivo certamente poteva essere poco utilizzata invece oggi con la climatizzazione sia nel periodo invernale quindi con l'aria calda sia nel periodo estivo con l'aria fredda ci consentirà un utilizzo ancora migliore e quindi ancora di più il Palazzo di Tutti Concilio diventerà sostanzialmente uno gioiellino al centro della città disponibile per gli eventi che dovremmo realizzare. Naturalmente oltre a questo verranno implementate le tribune, ritorneranno le tribune alle spalle dei canestri in modo tale da garantire la possibilità di maggiore presenza e tutto questo io credo sia un intervento assolutamente doveroso. Collegato a questo anche altri interventi in città si stanno realizzando per migliorare i nostri impianti come l'intervento che già sta avvenendo sulla pista di atletica che deve essere disegnata le strisce e anche lì l'usura necessitava di un ulteriore intervento per rimetterla in efficienza tale da poter ospitare manifestazioni di grande livello. Non ci stiamo risparmiando rispetto a questo e come ho detto quando l'usura comincia a danneggiare le strutture è necessario intervenire e noi lo stiamo facendo.